Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Siamo salvi. Per ora. Dai! Cavolo, è un bel salto. Bene, palazzo del governo. Sì, superiamo questo posto. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Ora è desolazione. Da qui. Sì. E, ti as. Arrivo. Grazie. E' stato fatto a pezzi? Sì. E' morto da poco. Ed è umano? Sì, potrebbe. Andiamo via. Alla prossima. Un altro merda. 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 Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Occhialo a testa. Fantastico. Tutto troppo forte. Dammi una mano con questa. Joel! Grazie. Stai bene? Non è niente. Cerchiamo propiste. Che accio? Oh, è stata tosta! 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 Grazie mille. 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 Non ci credo. Grazie mille. 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 Andrà tutto bene.